Sala dell'IFEL per la presentazione del volume La raccolta differenziata di Nadia Ramazzini e Daniele Fortini, è qui l'autore, uno degli autori Daniele Fortini, oltre a me ci sono anche l'onorevole Stella Bianchi alla Commissione Ambiente, Lucio Dubaldo, direttore del Centro di Documentazione e Studi dei Comuni Italiani, Filippo Bernocchi di Ancitel Energia. Do la parola a Pier Ciro Galeone. Io solamente per un saluto d'apertura, come scritto qui, anche perché iniziamo con un certo ritardo. Io ho visto rapidamente il libro, lo dico, però è impressionante perché mi aspettavo un'opera più, non immaginavo una cosa così sistematica, cioè che prende la parte storica, vede gli aspetti tecnici, vede anche due casi interessanti come quelli di Roma e Napoli. Il tema è affrontato veramente in un modo forte e forse richiama anche noi a occuparci, io faccio il direttore di IFEL, noi ci occupiamo di finanza e economia locale, quindi questo tema non è un tema che è al centro dei nostri interessi e forse sbagliamo. Sbagliamo perché mi sembra che qui emerga come la raccolta differenziata non sia un di più, non sia solamente qualcosa che migliora la qualità della vita, ma è anche, fa parte in effetti, può innescare, può far partire un ciclo economico di tipo sistema, può modificare un sistema economico territoriale, può produrre dei vantaggi sul territorio molto forti, sicuramente sulla qualità della vita e la salute delle persone, ma anche sull'economia, anche sul modo stesso di intendere il ciclo di produzione e consumo e riproduzione. E quindi questo pensavo, dicevo anche prima, con Stella Bianchi dicendo, noi poco fa abbiamo fatto, abbiamo presentato dei volumi sulla nuova contabilità degli enti locali e sull'importanza delle riforme contabili per tenere sotto controllo e monitorare l'andamento delle grandezze finanziarie nei comuni. Forse anche questo tema andrebbe affrontato con meccanismi appunto di monitoraggio e di coordinamento più forti. E forse ancora, sempre noi che ci occupiamo anche qui di entrate, quindi del sistema fiscale a livello locale, forse anche vista l'importanza e il rilievo che ha per la qualità della vita e anche per il sistema economico, forse vale la pena lavorare anche per un ingresso di questo ciclo all'interno del sistema fiscale in un modo serio, in un modo robusto. Diciamo che è un libro che fa riflettere chi si occupa della materia, sono tanti, ma anche chi si occupa in generale del governo dei territori e del loro destino. Quindi sono molto interessato ad ascoltare quello che direte, quindi restituisco la parola alla moderatrice. Ringrazio Lucio Dubaldo per aver scelto IFER come sede, non era scontato, quindi sono contento che la nostra fondazione ospiti questo incontro. Buon lavoro. Grazie, a questo punto vorrei passare la parola a Lucio Dubaldo per una breve introduzione sul volume, visto che già Galeone ci ha dato qualche accenno. La raccolta differenziata oggi è un tema centrale non solo nelle buone pratiche amministrative, ma anche all'interno di un sistema economico molto più complesso. Sì, io concordo intanto con questo concetto della complessità perché anche come cittadini abbiamo tutti la sensazione che la questione rifiuti ha una sua complessità crescente, non in calo, nel senso che non dobbiamo aspettarci che le tecnologie facilitino, no, le tecnologie e la ricerca dell'optimum comportano qualche sacrificio in più, nel senso che prima eravamo un po' tutti abituati a concepire il rifiuto così come qualcosa da eliminare, quale che fosse la sua gestione, oggi invece non è più così. Ma questo fa parte anche un po' dell'ovvio. Per valutare il senso di questo volume raccolgo lo spunto del collega, amico dottor Galeone. Eravamo convinti, insomma anch'io ero convinto, che questa presentazione sollecitata da Francesca Leoncini che oggi coordina questo dibattito, fosse legata a una sorta di manuale, la raccolta differenziata, libro scritto dall'attuale Presidente, amministratore delegato di una delle più grandi aziende ex municipalizzate, partecipate in questo caso dal Comune di Roma, tutto faceva sopporre meno di avere un libro invece che ha una sua complessità, una sua armonia, un libro che racconta diverse cose, che tocca diversi punti, la legislazione nazionale, la legislazione europea, la storia, l'evoluzione, individua gli obiettivi futuri, arriva a definire quali sono i punti cruciali, la raccolta differenziata è il cuore del ragionamento, ma sta dentro un ragionamento più ampio che è quello della gestione ambientale dei rifiuti in senso generale. Io sono rimasto colpito, perché il compito mio nella breve introduzione è solo di trasmettere qualche messaggio, nel vedere che alcuni nodi, alcuni problemi, è vero ce l'ha l'Italia, ma ce l'hanno tutti i paesi europei, non è che siamo unici a dover constatare un crescendo di difficoltà e di preoccupazioni, certo alcuni paesi indubbiamente sono più attrezzati, sono più avanzati di noi, però dice l'autore noi abbiamo una condizione per cui almeno tendenze omologhe si registrano, ad esempio quando nel 2013 come termine ultimo bisognava adeguarsi nel fare ogni nazione un atto che consisteva nel definire il piano nazionale per la prevenzione dei rifiuti, siamo arrivati noi, Italia, all'ultimo momento, ma anche gli altri paesi europei sono arrivati tutti all'ultimo momento come scrive Fortini e non solo Fortini perché dobbiamo dare anche conto del fatto che l'autrice che accompagna l'autore in questa fatica letteraria è la dottoressa, professoressa Ramazzini che oggi purtroppo non è qui presente. Ecco, allora noi dobbiamo aiutare con questo dibattito, anche con questo dibattito, a tirar fuori dalla condizione nazionale specifica italiana gli elementi che sono tutti nostri e che quindi possono qualificare in negativo purtroppo il nostro approccio al problema, ma vedere anche quali sono le coerenze generali di tipo sistemico europeo, per non piangerci addosso, per vedere quali sono eventualmente, se ci sono come mi sembra, alcune tendenze di fondo. Aggiungerei solo questo e chiuderei qua, non dobbiamo nasconderci però dietro a facili schemi statistici, raffigurazioni. Mi sorprende positivamente che nell'introduzione Fortini dica, insomma per esempio il Sud, il Sud dimostra una vitalità, un interesse a dimostrare che comunque va avanti, che comunque insegue gli obiettivi, gli standard di qualità, quindi si misura con le esperienze più avanzate dei comuni del Nord, però la sensazione è che il divario, direbbe il mio amico Caleone, un divario strutturale duale che rimonta a ben altre analisi, a ben altre condizioni storiche del Paese, però in questo campo specifico si tocca proprio con mano, c'è una situazione in questo campo di un certo tipo a Nord, purtroppo nel centro-sud la situazione tendenzialmente grosso modo si aggrava. Qui nell'introduzione c'è scritto però dobbiamo avere una valutazione, farci una valutazione non proprio pessimistica e quindi io sono anche interessato a capire stasera in che termini questo pessimismo possa essere contenuto, in che senso possiamo guardare obiettivi strategici, ambiziosi e devo dire che lo facciamo con molto piacere perché nel mondo Anci, in senso lato, noi ci siamo anche preoccupati di organizzare un presidio, lo vorrei chiamare così che non a caso è garantito qui nel dibattito dalla presenza dell'amico Bernocchi che presiede una società partecipata dall'Anci, Anci dell'energia e ambiente e in questo senso sì, magari non abbiamo tutti i numeri a disposizione, non abbiamo come cuore dei nostri ragionamenti quello di indagare come funzionano i servizi perché lo facciamo sempre un po' di risulta essendo la finanza locale, la fiscalità del comune, il cuore del nostro ragionamento tuttavia lo sguardo lo teniamo sempre ben rivolto a tutto quello che fa nell'insieme la qualità e la credibilità del governo locale. Grazie Lucio Dubaldo, a questo punto mi sembra arrivato il momento dopo le diverse sollecitazioni sul volume di chiedere a Daniele Fortini innanzitutto a quale pubblico è stato pensato il volume e soprattutto come pensa venga trattata la raccolta differenziale in Italia e soprattutto, cosa ancora più importante, come dovrebbe invece essere organizzata. Ringrazio la professoressa Leoncini e gli amici che mi hanno preceduto IFEL per l'ospitalità e Anci per aver avuto la sensibilità di organizzare questo appuntamento. Il libro nasce da una sollecitazione della casa editrice IDS la quale chiede a me e a Nadia Ramazzini ma siccome di rifiuti si parla sempre in modo allarmistico, di denuncia se vogliamo anche di cronaca e cronaca nera perché è un fenomeno di criminalità, di malversazione ma dall'altra parte il rovescio della medaglia è invece una manualistica su fai bene la raccolta differenziata interessata ai bambini delle scuole pedagogica più che altro ma la rappresentazione veritiera demistificata insomma del che cosa accade per davvero nel mondo dei rifiuti una volta che noi li abbiamo consegnati al servizio pubblico e quindi ci siamo liberati di quegli oggetti di cui non vogliamo più avvalerci che cosa accade? Come stanno realmente le cose? Su tutti i piani logistico, organizzativo, economico, finanziario in una comparazione Italia-Estero-Mondo e di modelli differenti che chiamano in causa per forze di cose tradizioni, storie, culture che nell'Italia dei mille campanili ovviamente è differente dappertutto quindi l'operazione che abbiamo fatto è stata proprio quella in modo laico, non ideologico di demistificare le tante credenze che ci sono intorno al mondo dei rifiuti per rappresentare invece la realtà per come l'abbiamo conosciuta Nadia Ramazzini è persona che ha lavorato per dieci anni in una grande multinutility quotata in borsa a 2A di Milano-Brescia-Bergamo ha lavorato per molto tempo a Bruxelles alla Commissione Europea occupandosi appunto dei rifiuti quindi aveva questa visione un po' più globale io ho amministrato le aziende di Firenze di Empoli, di Pistoia di Napoli e adesso di Roma e quindi diciamo così in mezzo alla monnezza è un po' di tempo che ci sto e quindi più o meno mi rendo conto di che cosa di che cosa ho intorno e di cosa mi devo occupare intanto la questione però che il dottor Dubaldo poneva e che è affascinante i monnezzari di tutto il mondo si riconoscono siamo atterrati all'aeroporto di Teheran in Iran qualche anno fa è venuto a prenderci eravamo per un convegno per alcune confronti universitari è venuto a prenderci il sindaco della città di Teheran e ci ha abbracciato alla delegazione italiana che sapeva che venivamo da Napoli e lui ha detto grazie perché in virtù delle immagini di Napoli devastata da rifiuti con i cumuli che bruciavano nelle strade le sassaiole contro i pompieri i carabinieri che scortavano i compattatori della raccolta dei rifiuti grazie a queste immagini che abbiamo visto in televisione e sui giornali io ho convinto il Consiglio Comunale all'ampliamento della discarica di Teheran ci provavo da tre anni non mi riusciva quando ho potuto dire guardate che finiremo in quel modo lì mi hanno approvato l'ampliamento della discarica quando ci siamo incontrati con la nostra società gemella la compagnia che gestisce i rifiuti a Melbourne l'esordio dell'amministratore delegato è stato ma noi qui non abbiamo grandi problemi Melbourne è una città ricca le strade sono molto larghe si spazzano facilmente abbiamo un solo problema il sindaco si il problema è che abbiamo tutti noi il sindaco che vuole le strade pulite i servizi sempre in migliore e qualità la raccolta differenziata al 100% e magari gratis ma perché il sindaco rappresenta i cittadini i cittadini vorrebbero questo le strade pulite la raccolta differenziata ad altissimi livelli niente discariche niente inceneritori niente impianti di compostaggio non vorrebbero vedere neanche i camion che passano per strada perché fanno rumore danno fastidio si portano dietro un po' di puzza e vorrebbero tutto gratis giustamente perché pagare per queste cose e così in tutto il mondo c'è una trasversalità quindi della gestione dei rifiuti che dall'Australia all'America Latina dai paesi arabi all'Europa ci accomuna un po' tutti e ci accomuna un po' tutti perché la bacchetta magica non esiste ogni tanto leggiamo sui giornali dissociazione molecolare distruzione con l'arco voltaico torce al plasma le bacchette magiche che fanno sparire i rifiuti a me è piaciuta sempre un'immagine meravigliosa di un firme di Troisi di Massimo Troisi quando lui dal letto ha bisogno di bere un bicchiere d'acqua non ha voglia di alzarsi e comincia con le mani la bottiglia dell'acqua stava sul commodino dall'altra parte della stanza e con le mani cerchia di attraverla e alla stessa cosa faccio io con i rifiuti quando io do per strada vattene 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 non se ne vanno i rifiuti non hanno vita propria proviamo a convincere se non passa l'autobus dell'Atac e le corse si diradano il passeggero potenziale un po' aspetta ma poi se ne va non resta lì ad aspettare tre giorni che qualcuno lo porti via se ne va il rifiuto no il rifiuto se non lo togli resta lì e questo gesto banale del rimuoverlo chiama in causa una organizzazione complessa dentro processi che abbiamo cercato di analizzare e di verificare e che per loro natura hanno a che fare e incrociano appunto storia, tradizioni e cultura Roma grande città grande capitale la città probabilmente più cosmopolita d'Italia e tra le poche che ce ne sono in Europa insomma insieme forse a Parigi e a Londra la città ha teso ad espellere dal suo corpo tutti quelli che sono i fenomeni indesiderati i rifiuti sono un fenomeno indesiderato perché i rifiuti sono brutti puzzano fanno schifo attacchano i gabbiani i topi le mosche sono anche orribili a vedersi insomma si espellono e in questa espulsione dalla città prima abbiamo espulso gli impianti le discariche gli inscenitori non li voglio ma se li dovete fare è il più lontano possibile da casa mia e poi le officine e i depositi dei camion più lontani possibile portatevi nelle periferie più estreme ma non li voglio dentro la città adesso siamo al punto che non si vogliono neanche le isole ecologiche che non si vogliono neanche che i camion sulla strada facciano il trasbordo dal mezzo piccolo al mezzo grande cioè si tenta ad espellere quando invece quello che serve se pensiamo alla raccolta differenziata porta a porta serve avvicinare la produzione del servizio a dove i rifiuti vengono prodotti perché se un camion della raccolta deve partire da Tor Pagnotta arrivare a via dei prefetti ci mette un'ora e mezza poi ha bisogno di un'ora di tempo per andare a Ponte Malnome Valle Galeria a scaricare e poi deve rientrare a Tor Pagnotta un equipaggio che ha il contratto di lavoro per lavorare sei ore al giorno evidentemente ne perde quattro negli spostamenti urbani in una città come Roma ne perde quattro negli spostamenti urbani allora l'officina ovvero il deposito il garage il luogo in cui gli operai si spogliano fanno la doccia si predispongono per il servizio non può stare a un'ora di mezzo dall'area operativa in cui deve pulire la strada deve stare lì ma la città appunto tende ad espellare tutti questi fenomeni li abbiamo valutati considerati partendo dalla semplice attività di spazzamento e di raccolta dei rifiuti specialmente quella porta a porta e raccolta differenziata per poi vedere cosa accade nel ciclo industriale una volta le abbiamo raccolti che cosa accade quali sono le problematiche quali sono gli interessi che entrano in gioco quali sono le tecnologie e come interagiscono tra di loro in quale dialettica e come tutti questi incrociano gli interessi economici il volume d'affari della gestione dei rifiuti del nostro paese è di 9 miliardi di euro l'anno di questi 9 miliardi di euro l'anno 7 miliardi e mezzo è il valore delle attività svolte per lo spazzamento l'igiene urbana la raccolta la raccolta dei rifiuti sono delle cifre importanti cifre importanti che vengono per lo più corrisposte dai cittadini che pagano la tassa e la tariffa con servizi che non sempre sono della qualità desiderata anzi il desiderio di implementazione della qualità è sempre più elevato e nello stesso tempo però i livelli di efficienza che si riescono a realizzare diminuiscono in ragione proprio delle fenomenologie delle conurbazioni urbane soprattutto quando sono grandi città per esempio non si sa che Roma è l'unico capoluogo di regione in Italia che supera in termini di raccolta differenziata la percentuale regionale la Lombardia fa il 51% di raccolta differenziata la città di Milano fa il 46% la regione Campania 48% di raccolta differenziata Napoli 30% così vale per il Piemonte vale per l'Emilia Romagna Roma è l'unica città in cui la città fa l'unica regione in cui Roma fa il 43% e la regione Lazio il 30% questo perché perché lo sviluppo che vi è stato negli ultimi tre anni quindi prima che arrivassi io non me ne prendo tutto il merito ovviamente ma lo sviluppo che c'è stato la tensione che c'è stata verso la raccolta differenziata ha fatto sì che una città che era pronta a ricevere questo servizio in cui i cittadini erano educati ispirati verso la raccolta differenziata nel momento in cui hai offerto il servizio e ti sei organizzato per farla il risultato è stato ovviamente eccellente tenendo conto del fatto che tutti i rifiuti che noi raccogliamo in modo differenziato a Roma vanno a recupero vengono affidati agli impianti del CONAI e agli impianti del Consorzio Italiano del compostaggio e vengono recuperati anche qui un mito da sfatare ma si dicono e fanno una differenziata ma poi tanto finisce tutto nella stessa discarica vanno negli incenitori eccetera non è vero i dati sono certificati chi accetta i rifiuti certifica che sono rifiuti riciclabili altrimenti non potrebbe non potrebbe farlo perché ci arriviamo però anche questo nel libro il focus su Roma e Napoli sono voluti non abbiamo fatto su altre realtà perché ci arriviamo soltanto tre anni fa a capire che questo era la necessità della città e nello stesso tempo era ciò che i cittadini volevano perché per 38 anni Roma è stata prigioniera di una grande comodità avevi una buca braccia e carrette del lama raccogli e vai a sversare dentro la grande discarica perché devi fare la differenziata è questa grande comodità di una buca enorme la più grande d'Europa ci abbiamo messo dentro qualcosa come 40 milioni di metri cubi di monnessa perché ti devi dedicare invece a fare investimenti comprare gli automezzi assumere il personale formarlo organizzarti la logistica per fare la quota se hai quella grande droga che è quella quella buca e lo stesso è stato per la campagna per lunghi anni purtroppo è ancora oggi per la Sicilia la Sicilia raggiunge per città di raccolta differenziata difficilmente a due cifre insomma ancora molto indietro la Calabria ma la stessa Puglia che pure è una regione dove invece i servizi sono organizzati anche magari in modo adeguato la bacchetta magica non c'è le tecnologie che abbiamo a disposizione sono molto più evolute di quanto non lo fossero in passato l'Italia è prima al mondo nella produzione di pannelli truciolari realizzati con legno riciclato proveniente dalla raccolta differenziata siamo primi in Europa nella raccolta differenziata dell'alluminio e del vetro siamo secondi in Europa nella raccolta differenziata del cartone e nella produzione del compostaggio da rifiuti urbani le cose diceva prima il dottor Dubaldo e pensare tutto questo lo facciamo con mezzo paese con metà paese dal Tevere in su perché purtroppo l'arretramento l'arretratezza che abbiamo nel mezzogiorno fa sì che non ci siano gli stessi risultati le stesse performance in tante regioni rispetto alle altre se riuscissimo ad ottenere in Sicilia in Calabria in Puglia e in Basilicata gli stessi risultati non della Lombardia ma basterebbero quelli delle Marche o quelli del Lazio avremo un'impennata impressionante e questo è ciò che testimonia il libro non c'è la bacchetta magica non esiste un modello univoco di raccolta differenziata vedete quando in un comune come Ponte nelle Alpi e poi mi fermo ma Ponte nelle Alpi è un comune di 1200 abitanti distribuito su tre frazioni mediamente di 300 e passa abitanti fanno l'85% di raccolta differenziata bravissimi bravissimi l'abitazione più elevata in altezza di Ponte nelle Alpi è 6 metri perché sono tutte villette a due piani ognuna al suo giardino non producono rifiuti biodegradabili perché la frazione organica umida dei rifiuti la lasciano nel giardino la danno al maiarino quello che producono di rifiuti che non sono organici sono riciclabili perché plastica carta alluminio vetro viene affidato al servizio di raccolta ma soprattutto c'è un dato e cioè la vigilanza sociale tra di loro per cui 10 famiglie che stanno vicino ciascuno ha la propria villetta se uno getta via una cicca di sigaretta a terra il vicino lo sanziona lo riprende magari lo redarguisce in un condominio di Napoli in cui un condominio a Napoli si chiamano parchi dove mi è capitato di vivere appunto per sei anni e ad amministrare l'azienda in un condominio in Napoli dove vivono 6.000 persone 6.000 in un condominio che occupa forse mille metri quadrati ed è alto ovviamente 11 piani questo elemento di coesione sociale è più difficile da trovarsi di sorveglianza reciproca di costruzione di comportamenti virtuosi della comunità è molto molto più difficile da trovarsi un solo modello di raccolta di farizzata non è possibile nel villaggio di mille anime è possibile che tu gli dai il bidoncino dove mettere le pile dove mettere le penne biro esauste e dove mettere il rasoio elettrico in un parco fatto di 10 palazzi dove stanno 6.000 abitanti e non c'è il posto per mettere il bidoncino della raccolta porta a porta non c'è storia non c'è santi che ti possono salvare servono batterie di grossi cassonetti 10-20 cassonetti a schiera magari appunto per la raccolta inferenziata della carta del vedo eccetera ma servono cassonetti stradali tutti in fila perché altrimenti il servizio non lo puoi dare i rifiuti non li trovi così ogni comunità in virtù della propria esperienza la propria tradizione ma anche della propria ricchezza è in grado di organizzarsi i servizi a seconda di come gli si presenta il territorio di come è organizzata la città i tempi la vita a Posillipo non si può fare la raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti perché i rifiuti non ci sono è incredibile è la zona residenziale per eccellenza della città ci vive l'alta borghesia come è possibile che non ci siano i rifiuti non ci sono perché l'alta borghesia magari anche nobile aristocratica di quel quartiere non vive a casa esce la mattina e torna la notte e dopo aver cenato fuori dopo aver fatto vita di terrazza piuttosto vita mondana non produce rifiuti è inutile che tu vada a fare la raccolta differenziata porta a porta tutti i giorni a ritirare i rifiuti organici non li trovi non ci sono allora c'è il cassonetto stradale e il cassonetto stradale per quei pochi rifiuti che producono gli dai il cassonetto è conveniente andarci una volta alla settimana con un camion piuttosto che tutti i giorni a fare porta a porta ovviamente poi quelli scrivono tutti i giorni dicendo volimmo porta a porta e vabbè bisogna spiegargli che invece non è congeniale ma i racconti potrebbero portarci molto lontano la realtà è di un paese purtroppo anche in questo caso con luci e ombre dove abbiamo tantissime virtuosità anche nel mezzogiorno tante complessità che vanno governate finalmente finalmente una anche in questo caso dico Roma perché è la nostra città ma per la prima volta siamo riusciti nel regolamento edilizio a far scrivere che esistono i rifiuti nei piani regolatori nella pianificazione nella programmazione urbanistica di qualunque luogo dal villaggio ma la città esiste tutto i cittadini che si muovono che devono studiare che hanno bisogno del parco che hanno bisogno anche del giardinetto dove portare i cani per i loro bisogni c'è tutto tranne che i rifiuti non compaiono mai ma scusa ma i rifiuti per la prima volta con questa amministrazione siamo riusciti a dire che quando si costruisce un nuovo palazzo deve contenere al proprio interno lo spazio fisico dove mettere i bidoncini per la raccolta differenziata dei rifiuti chi vuole costruire un nuovo palazzo da oggi a Roma deve dimostrare che dentro il palazzo ha trovato i volumi tecnici dove mettere i bidoncini per la raccolta differenziata non solo ma l'impresa costruttrice se dichiara che realizzerà sulla pubblica via ovviamente le aree dove poter collocare le isole interrate dove poter gettare i rifiuti ovvero gli spazi fisici dove poter fermare il camion della raccolta per svuotare i cassonetti potrà portare queste opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione sono banalità sì ma non l'ha fatta nessuno nel mondo ci stanno chiedendo da tutto il mondo ci spiegate come avete regolato questa cosa perché ci piacerebbe farla anche a noi allora appunto siamo il paese che si lamenta tutti i giorni Roma è sporca Roma fa schifo i servizi non funzionano spendiamo un sacco di soldi non facciamo la differenziata eccetera poi però ci chiedono magari da tutto il mondo possiamo venire a vedere come fate perché vorremmo imparare qualcosa anche da voi il libro d'acconto di tutto questo in un modo che ha provato ad essere il meno tecnicistico possibile il più discorsivo possibile e il più documentato possibile quindi in tutte le rappresentazioni sono più di 80 tabelle grafici come dire rappresentazioni di comparazioni proprio per questo avere una visione di insieme quanto più possibile soddisfacente ed esauriente e aggiornata e che dia conto però appunto di una visione delle cose per come in realtà esse sono ecco senza partito preso senza sposare cause pregiudiziali il titolo della raccolta differenziata è che la raccolta differenziata è il motore di tutto con la raccolta differenziata il rifiuto diventa risorsa è il percorso per diventare risorsa senza raccolta differenziata il rifiuto resta un problema